Le prospettive dei giovani medici in Italia sono... Eh, questa è una bella domanda, perché diciamo che la nostra formazione è una delle migliori, mi sento di dire, essendo stata anche io all'estero per un periodo, è una delle migliori, diciamo, forse al mondo, perché comunque veniamo da una tradizione universitaria e didattica molto importante. Il mondo poi della sanità o anche della ricerca, purtroppo, in Italia non vive un bel momento, e sono già ormai diversi anni che viviamo un po' questa situazione per la mancanza, forse, di fiducia nei giovani ricercatori. Non parlo soltanto di medici, ma i ricercatori possono essere di estrazioni diverse, che purtroppo non ricevono la fiducia giusta per, diciamo, mettere in atto le idee che sono tante. E quindi, diciamo, è una possibilità che viene negata e questo è un peccato per un Paese che spende tanto, poi nella formazione dei giovani e non spende altrettanto per garantire poi la messa inutile di questa formazione. Io desidererei utilizzare questo fondo per continuare un progetto che ho già intrapreso. È un progetto che prevede l'utilizzo di cellule staminali, quindi di medicina rigenerativa, nelle patologie neurologiche, in particolare nell'ictus, che è una delle cause di maggior disabilità al giorno d'oggi, per, appunto, recuperare funzioni che vengono compromesse a seguito, appunto, di un danno cerebrale.